Oggi ho fatto una di quelle stupidaggini che si fanno normalmente a inizio stagione, quando si arriva in spiaggia e ci si scotta. Cosa è successo? Sono arrivata ovviamente sotto l'ombrellone, mi sono messa la crema, io e le mie figlie, ovviamente la crema va rimessa diverse volte, però essendo andato via il sole, oggi è una giornata abbastanza nuvolosa, non l'ho rimessa e soprattutto mi sono addormentata sotto l'ombrellone, facendo sì che la metà del corpo a sinistra fosse esposta ai raggi ultravioletti nonostante ci fossero le nuvole e l'altra parte fosse allegramente all'ombra. Quindi adesso una bella parte del corpo completamente bordoso, una metà, e quindi sto mettendo la lozione all'aloe che abbiamo noi in store, che va messa ovviamente a corpo deterso dopo aver fatto la doccia e che è assolutamente rinfrescante e grazie ai benefici dell'aloe e aiuta la pelle secca a lenire e quindi teoricamente dovrei ritornare in brevissimo tempo a posto.